E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. E questo è davvero il gol della tranquillità. Dopo il rigore neutralizzato da Alisson ad inglese, il contropiede vincente, iniziato e completato da Stefano Elcerawi. Va via Gamberini che prova a metterci il piede ma non basta. Pallone indirizzato nell'angolino lontano, niente da fare per Sorrentino. 3-0 Roma. Vince con un po' di fortuna il rimpallo, poi è bravissimo però a piazzarla.